SOS Aghezzo TV, buonasera. Oggi ti voglio portare in fortezza perché sai che è un po' che non ci troviamo. Sono entrato su per le feste di Natale, è veramente stato fatto un bel lavoro, poi è bello il panorama della città di Arezzo, specialmente quando sei al tramonto è meraviglioso, poi devo dire che sono stati dei soldi spesi, quindi penso abbastanza bene perché chiunque viene ad Arezzo può mirare una bella cosa e può mirare dall'alto la città e il panorama. Sì, tra l'altro c'è stata questa mostra di timer che è andata molto bene, che è stata anche provocata e quindi insomma è bello vedere anche la città dall'alto, anche con un clima, che succede? È chiuso. Ah, attenzione. Tutto è chiuso. Come mai è chiuso? Non ce n'è chi? È lietato circolare i cramotori a fare attività che arrecchiano disturbo o pericolo. Chiuso. Ma c'è nessun cartello? Eh no. Adesso che abbiamo fatto questa pantomima, ti dico la verità. Perché tu lo sapevi che era chiuso? Io lo sapevo. Te non lo sapevi? No, perché c'era il carnevale e adesso si vengono qua su. Non potresti farlo anche qua su, prossimo anno. Sì, specialmente, col caldo che quest'anno è alto quasi 20 metri, ci faccio passare da questa porta. Che belle, come le belle maschiacone che arrivano qua su. Senti, no, perché questa fortezza è accessibile su prenotazione. Solo che... Come su prenotazione? Su prenotazione. Abbiamo speso milioni d'euro per mettere a posto questa fortezza, per farla vedere. Che si fa? Come in casa quando la moglie ti fa mettere le pattine, se no se c'è il pavimento nuovo e non lo puoi sciupare e non lo puoi utilizzare. Oppure le stanze devi stare attento, le poltre... Qui che si fa? Si è fatto milioni d'euro di spesa e ora si è inciuso perché si mantiene così? Allora, è stata fatta anche un'interrogazione in consiglio comunale e da una parte ci sono dei cantieri che ancora non sono stati probabilmente ultimati o comunque non sono stati... Ci sono state migliaia di persone per la festa di Natale. Voi ti dico cosa hanno detto e in attesa di trovare una formula per cui per gli aretini sarà gratis e per chi viene da fuori sarà pagamento, è chiuso. Quindi solo su prenotazione, il problema è che alcuni aretini hanno portato qua magari degli amici da fuori andando a colpo sicuro per fargli vedere la bellezza della fortezza e della città di Arezzo vista dalla fortezza e hanno trovato chiuso. Come noi. Come noi, come te e... È vero, perché te lo sapevi. Ho fatto un inganno. E soprattutto, come dici tu, non c'è un cartello che dica qualcosa. Cioè hanno messo l'adesivo del corpo dei vigili giugati, aria protetta, senti che bell'eco, aria protetta che dà allarme, quindi non toccare, suona tutto. E però non c'è scritto. Cioè se io voglio sapere perché è chiusa quando apre, come si fa a visitarla, nulla. Bah, siamo sempre a retini, dai. Veramente non esiste. Poi dobbiamo lavorare per portare a Arezzo il turismo perché il turismo è importante, il turismo produce reddito, bla 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 bla. Facciamo un'opera veramente bella. Il turista qui, non è che ci venga, arriva qui, ah, vede un bel lucchetto con un bel cancello di ferro, senza nessuna indicazione, con scritto anno 1904. E poi, basta, giusto. Non ha molto senso. Bah, da, su. Quindi secondo te la storia dei cantieri non è... No, siamo dei cretini. No, non si butta giù. Siamo. Siamo, sì. Dico, la storia dei cantieri non ti convince. Scusa, ma le feste di Natale c'erano i migliaia di persone, soprattutto i bambini, e c'erano tutti i giochi su, e abbiamo portato i bambini su in fortezza. Allora, che facevano? Lo mandavano in un posto che era pericoloso? Ma veramente è indicibile questa cosa. Boh, io mi meraviglio. Io mi meraviglio che è il sindaco che possa permettere certe cose. C'ha spesso una maria di soldi il comune d'Arezzo in questa opera. Infatti l'interrogazione sarà chiamata ovviamente dal PD, che hanno dato, cioè l'amministrazione che c'era prima, ha dato inegredità a questa fortezza, infatta col Pius, dai famosi fondi Pius, e dice perché non è aperta. Ma è veramente illogico. È una delle opere più importanti e più belle che c'è in Arezzo, perché sono state fatte anche i ritrovamenti archeologici importanti. Quindi penso anche le guide, ma le guide non dicono niente. Anche le guide dovrebbero dire qualcosa, perché per o male è lavoro anche per loro. Squillano i telefoni. Tra l'altro è veramente un pezzo di storia, in tutti i sensi, perché guarda un po' il... Cosa troviamo scritto ancora qui? Banca Popolare dell'Etruglia. E' del Lazio. E' proprio un reperto. Ma ancora c'è? Sì, non si chiama più. C'è Nuova. Nuova Banca Etruglia. O Nuova, quello che sarà. Qui Banca Popolare dell'Etruglia e del Lazio. Quando realizzava, quando dava contributi, ricordi, no? Realizzato da... Non molto tempo fa. No, 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 no. È un vecchio nome. Vabbè, Architetti Giuliano da San Gallo, Antonio da San Gallo, il vecchio. Mi ha fatto una sima alla Portaferraio. Eh sì. Comunque, è un peccato, come ormai la nostra parola, la nostra frase, che diciamo sempre, che non si possa riavere totalmente questa bella fortezza. Io dico, per chiudere il servizio, questo. Restiamo senza parole.